La rotatoria è fondamentale perché per i commercianti significa avere la possibilità di avere veicolato su quest'asse stradale tutto il traffico che può venire da una parte e l'altra della tangenziale senza il problema del divieto di svolta che ora abbiamo. Sono ormai anni che i commercianti di Via Fiorentina attendono la realizzazione della rotatoria per migliorare così la viabilità ma anche l'accesso all'importante arteria cittadina e da adesso Confesa Arcenti dopo lo stop del cantiere torna a chiedere l'UMI all'amministrazione comunale. Dall'amministrazione comunale noi ci aspettiamo che questo cantiere riparta. Il progetto c'era, sappiamo che aveva avuto dei problemi di realizzazione per un problema di variante che era necessario fare però ci aspettiamo che il problema venga risolto. È un cantiere che comunque è stato allestito, è un lavoro comunque necessario. Una parte credo del finanziamento necessario era stato trovato quindi ci aspettiamo una soluzione. La richiesta dell'associazione è dunque quella di capire quale sarà l'impegno dell'amministrazione comunale per portare avanti l'intervento atteso dagli automobilisti ma anche da chi vive e lavora nella zona. Sta andando avanti il progetto, la questione in questo caso è che stiamo attendendo quelle che sono le interferenze con i sottoservizi che chiaramente andranno anche ad incidere nel lavoro che poi dovrà essere svolto. Quindi stiamo portando avanti insieme anche ai dirigenti del comune e alla ditta che ha vinto il bando di portare avanti i lavori nel più tempo breve possibile, le iniziative e di partire finalmente con i lavori. I mezzi ripartiranno quando sarà tutto chiarito, quando saranno appunto andati ad interessare anche tutti gli enti che hanno i sottoservizi. Sappiamo bene che lì ci sono molte società che hanno le loro infrastrutture e quindi la prima cosa sarà quella perché quando partiranno i lavori in quella situazione dovremo essere consapevoli che non si potranno fermare per nessuna causa e soprattutto che dovranno andare ad incidere il meno possibile con il traffico attuale.